Criminalità a Lucca, rapine in aumento del 43% nel periodo gennaio-ottobre, sono passate da 23 a 33 rispetto al 2015, numero di reato in crescita ad alto pascio, vertice in prefettura. Videocamere nei negozi collegate alle forze dell'ordine, un progetto realizzato da Conf Commercio in collaborazione con Polizia e Carabinieri. Mal tempo chiesto lo stato di rilevanza regionale, il Presidente della provincia Menesini scrive alla Giunta Toscana per ottenere finanziamenti a copertura dei danni provocati dalle piogge nel mese di novembre. Qualità della vita, Lucca scala 50 posizioni, la nostra provincia balza a metà della classifica annuale stilata da Italia Oggi. Lo sport, forte e terrane i gemelli del gol, la firma dei due giovani attaccanti della Lucchese nella bella vittoria sulla Pistoiese, mercoledì riprende la preparazione. Travotto battipaglia arriva il Super Schio, Lemura si sbarazza con facilità della modesta squadra scampana, situazione invariata in testa alla classifica, domenica prossima arriva il fortissimo Schio. Ben trovati in nuova edizione del TGNO in primo piano, un vertice in prefettura dove sono stati diramati i dati relativi ai reati in alcuni comuni della provincia di Lucca. Lucca e Alto Pascio, maglia nera della criminalità con il capoluogo che da gennaio a ottobre ha visto un aumento delle rapine addirittura del 43% e il comune del Tau che ha fatto registrare un incremento dei reati superiore al 13%. La situazione nei comuni della Piana, della Mediavalle e della Garfagnana è stata portata oggi all'attenzione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli elementi raccolti dalle forze dell'Ordine evidenziano una generale diminuzione in termini percentuali nel numero dei reati compiuti o tentati nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 ottobre 2016 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. In particolare Lucca registra un calo dei reati pari al 19%, Capannori del 17,1%, Porcari del 34,5%, Monte Carlo del 16,3% e Vagli di sotto addirittura del 90,6%. Fa eccezione il comune di Alto Pascio dove si è verificato un aumento pari al 13,2%. Andando nello specifico però, nel comune di Lucca, le rapine da 23 dello scorso anno sono salite a 33 nell'anno in corso con un incremento percentuale del 43,5%. Quest'ultimo dato e quelli relativi agli incrementi percentuali sono stati oggetto di particolare esame da parte del prefetto Giovanna Cagliostro e dei componenti del Comitato anche in relazione alla percezione di insicurezza che gli episodi criminosi suscitano nei cittadini. E a proposito di rapine, in particolare ci occupiamo di quelle nei negozi, Confcommercio ha lanciato il progetto Lucca Sicura. Si chiama Lucca Sicura ed è il nuovo progetto di videosorveglianza antirapina lanciato da Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Lucca e Massacarrara, assieme a Secure Shop, partner nazionale del sistema Confcommercio. Il progetto funziona in abbonamento e dalla piena condivisione da parte della prefettura e della questura, oltre che del comando provinciale dei carabinieri. Lucca Sicura prevede il collegamento delle videocamere di sorveglianza installate all'interno di un'attività commerciale direttamente alle centrali operative delle forze dell'ordine. Con il semplice clic di un bottone il commerciante consentirà la visione delle proprie videocamere ai carabinieri e alla polizia che potranno vedere in diretta quanto avviene all'interno di un negozio e in caso di rapina in corso intervenire prontamente. Questa iniziativa che noi portiamo avanti in questo particolare momento dove la sicurezza è uno dei temi più sentiti dal nostro mondo del commercio, credo che sia molto importante perché dà la possibilità agli imprenditori di avere una forma prima di tutto di dissuasione verso la malavita e poi anche di un controllo collegato con gli operatori delle forze dell'ordine così non è certamente una cosa come si dice fai da te ma è una cosa molto completa e molto diciamo d'aiuto per poter poi rintracciare questi malavitosi. Quindi credo che sia un'iniziativa molto valida e anche il costo non è eccessivo, si tratta praticamente come un abbonamento televisivo. Il sistema è già in uso nel territorio provinciale presso alcune tabaccherie e farmacie. Ora con la convenzione estripulata tra Secure Shop e Conf Commercio l'obiettivo è l'incremento del numero dei negozi protetti. Cambiamo decisamente argomento, arrivano le feste di Natale, Lucca si veste della magia di Puccini. Sarà un Natale all'insegna di Giacomo Puccini quello che Lucca si appresta a vivere quest'anno grazie al coinvolgimento di Conf Commercio, Itinera, Comune e Teatro del Giglio. Il maestro e la sua celebre opera, protagonisti dei giorni di Puccini, iniziati lo scorso fine settimana con la Bohème e che andranno avanti fino all'8 gennaio, saranno infatti anche il filo conduttore delle proiezioni sulle porte di ingresso al centro storico e del videomapping sulla facciata del Teatro del Giglio, un regalo di Natale sia per i lucchesi che per i visitatori della città. L'idea è appunto quella di caratterizzare in maniera forte il Natale andando ad arricchire con questa operazione il lavoro di promozione portato avanti fin qui dagli enti del territorio a favore del binomio Lucca-Puccini. Il Natale di quest'anno sarà proprio centrato sulla figura di Puccini. Ci saranno delle proiezioni che riguarderanno le porte della città, le proiezioni saranno molto molto interessanti perché la città si aprirà come una quinta di teatro ad accogliere chi vorrà venire a visitarci e a vederlo, naturalmente i nostri cittadini prima di tutto e poi su questa quinta di teatro scenderanno delle note che sono le note della musica di Puccini. Queste proiezioni daranno un senso nuovo alla festa del Natale rendendo sicuramente più bella, ancora più bella se possibile perché Lucca è già di Perse Bellissima, è una nostra città. Sono intanto iniziate ad accendersi in questi giorni in centro storico le illuminazioni natalizie. Le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa Lampi di Gemme sono quasi 300. E a proposito dei Puccini Days, tutto esaurito questa sera nella chiesa di San Francesco dove partire dalle 21 c'è in programma il concerto Puccini e Catalani, Noi TV ve lo propone in diretta streaming sul sito www.noitv.it. Parliamo di maltempo, il 5 e 6 novembre e il 19 novembre Lucca, tutta la provincia è stata colpita in modo particolare dalle piogge, il Presidente della provincia chiede aiuto alla regione. Il Presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha inviato una lettera al Governatore della Toscana Rossi e all'Assessore regionale alla Protezione Civile Fratoni con la richiesta del riconoscimento di rilevanza regionale per gli eventi del maltempo dello scorso 5 e 6 novembre e della seconda ondata che ha colpito la provincia il 19 novembre scorso. Una richiesta a cui è allegato il report dei danni del primo evento, in base alla segnalazione dei comuni il report che supera i 600 mila euro. Il riconoscimento di rilevanza regionale per l'esondazione e gli allagamenti citati consentirebbe ai comuni del territorio e alla stessa provincia di ottenere specifici finanziamenti per il rimborso di lavori di somma urgenza e di interventi urgenti. Non si è trattato di un'alluvione come in passato, dichiara Nicola Boggi, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile. Sono state numerose le zone colpite soprattutto sulla piana di Lucca in Valle del Serchio. Tra i territori che hanno subito danni, Porcari, che ha avuto problemi al reticolo idraulico ad abitazioni private. Nel dettaglio, i comuni colpiti sono quelli di Bagni di Lucca, Capannori, Camporgiano, Careggine, Piazza al Serchio, Porcari, Sillano, Giuncugnano, Stazzema e Vagli di Sotto. Il censimento dei danni stima a oltre 407 mila euro gli interventi di somma urgenza, cui si aggiungono 195 mila euro di interventi urgenti ancora da compiere. Da qualche giorno è in corso la sostituzione dei contatori GESAM a Ponta Moriano. 1.600 le famiglie interessate, nonostante le lettere inviate a tutti che spieghavano le modalità dell'intervento, sottolineando la gratuità dell'operazione, qualche malintenzionata ha pensato di cogliere l'occasione per cercare di mettere in atto odiosi episodi di inganno alla buona fede delle persone. La GESAM ricorda a tutti i cittadini interessati da questa operazione che nessuno è autorizzato a chiedere soldi per conto dell'azienda. La provincia di Lucca sale al cinquantesimo posto nella classifica delle province italiane per qualità della vita. La provincia di Lucca occupa il cinquantesimo posto in Italia per la qualità della vita. Questo l'esito della classifica annuale stilata in collaborazione con l'Università alla Sapienza d'Italia Oggi. Al primo posto in Toscana, quinta in Italia, c'è Siena. La classifica prende in considerazione una serie di indicatori, affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. A guidare la classifica nazionale delle 110 province in Mantova, dopo Siena, in Toscana si piazza Grosseto al trentesimo posto, seguita ad Arezzo, Pistoia, Firenze, sesta e quarantottesima a livello nazionale, seguono ancora Lucca, Livorno, Prato e Massa Carrara. Lucca migliora nettamente la propria posizione dalla centoquattresima posizione dello scorso anno, classifica in crescita nel settore affare e lavoro, leggero miglioramento anche per la percezione della criminalità, così come per il disagio sociale. In calo invece la classifica sulla popolazione e sui servizi finanziari, mentre migliora la posizione per il sistema salute. Lucca è tra le prime posizioni in Italia per le offerte per il tempo libero, decimo posto assoluto, in salita di una posizione, mentre il tenore di vita piazza la provincia al 69esimo posto, era il 109esimo, dati tutti in crescita, che contribuiscono al positivo risultato finale nella classifica 2016. Adam Alexander Mossa, di 26 anni, di Sant'Andrea di Compito, è stato arrestato nei pressi di Londra, deve scontare una pena di 6 anni per l'aggressione al Bruton, vi ricorderete l'aggressione avvenuta il 10 maggio di 5 anni fa, nella quale perse un occhio uno dei dipendenti, si tratta di un giovane del gruppo dei Bulldog. Caso SNAI, nuova interrogazione al Ministro, da parte del PD, al Ministro del Lavoro Poletti, l'ha depositata in Senato Andrea Marcucci, con la firma dei colleghi democratici Valeria Fedeli, Vicepresidente Palazzo Madama, Claudio Moscardelli, Stefania Pezzopane e Alessandra Bencini, dell'Italia dei Valori. Analoga interrogazione è stata presentata nei giorni scorsi dalla deputata Raffaella Mariani. La fusione per incorporazione del gruppo Cogema, si legge nel testo, ha portato SNAI-SPA al cambiamento di inquadramento previdenziale da industria a terziario, pusvolgendo le medesime attività antecedenti alla fusione. Proprio per questo Marcucci chiede l'intervento del Ministro Poletti, visto che il nuovo inquadramento dell'Inps nel settore terziario, ha incontrato la contrarietà di tutte le parti e compromette l'opportunità di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Adesso andiamo a Viareggio, il sindaco del Ghinga ha rappresentato la nuova giunta. Due new entry e cinque conferme e subito una rinuncia volontaria. Parte così la giunta del Ghinga Robis, annunciata attraverso una nota stampa una settimana dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Della prima squadra di governo manca soltanto Alessandro Pesci, l'ex assessore che a luglio, dopo la sentenza del TAR, aveva patteggiato una pena a un anno e sei mesi per bancarotta fraudolenta. Le novità sono Patrizia Lombardi, vicepresidente di Confcommercio a Viareggio, assessore allo sviluppo economico, e Federico Pierucci, che sarà assessore alla rigenerazione urbana, con deleghe all'ambiente, urbanistica ed edilizia. Confermati con le stesse deleghe, oltre a Walter Alberici, già nominato la scorsa settimana, Laura Servetti, al bilancio, Sandra May, sport e welfare, Maurizio Manzo, libertà urbana, polizia municipale. Confermata anche Rossella Martina, alla cultura, che però sceglie di rinunciare all'incarico poco prima di essere annunciata. Forte l'amarezza affidata dall'ex vice sindaco ad uno sfogo su Facebook. Già fatta fuori dal del Ghingaro e poi ripescata, dopo il mancato accordo con il PD Viareggino, la leader del movimento Viareggio Tornerà Bellissima ha abbandonato il sindaco che per prima aveva sponsorizzato in città. Martina definisce deteriorati in questi mesi i rapporti con il sindaco. Sono venuti meno, scrive, serenità, sincerità, fiducia, rispetto e libertà di pensiero. Resteranno fedeli alla maggioranza invece i due consiglieri eletti, Pieraccini e Spagnoli. Le deleghe alla cultura e alla scuola resteranno in mano al sindaco, dunque, che si tiene anche la comunicazione e soprattutto la possibilità di nominare ancora un assessore dei sette massimi previsti per legge. La prima seduta della giunta è mercoledì mattina, ma sul piano politico c'è già il caso Pierucci. Il giovane neoassessore, che dovrà lasciare la carica di consigliere comunale di Massarosa, del PD e le deleghe al turismo, cultura e commercio affidate dal sindaco Mungai, porta di fatto in giunta il Partito Democratico, nonostante la tregua siglata tra del Ghingaro e la segreteria PD Viareggino, che prevede un appoggio esterno senza assessori in quota DEM. Sarà un indipendente Pierucci o il PD in giunta? Per adesso da Viareggio nessuna risposta. Investimenti nell'innovazione, via libera della Regione Toscana, la richiesta di conflavoro piccole e medie imprese di modificare il bando sulle consulenze che si apre il primo dicembre, che ora risulterà più accessibile perché non ci sono più obbligi in sostanza di inserire i dati sensibili di ogni amministratore socio e dipendente dell'azienda. Il bando prevedeva addirittura la compilazione dell'elenco di coniugi e parenti fino al secondo grado. La richiesta ha ricevuto il benestare della Regione Toscana. Contro la violenza sulle donne usiamo la Stringart. Il 25 novembre scorso si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne. Tante le iniziative che vi abbiamo documentato e raccontato, molto originale e coinvolgente, è stata l'idea dell'associazione Ritrovo di Roberta che ha sede a Ponte Cosi. L'associazione è nata con lo scopo di assistere donne colpite da tumori al seno, ma si è pensato a questa forma d'arte della Stringart con lo scopo di coinvolgere i passanti. Tra questi abbiamo notato anche il sindaco di Piazza Alserchio Carrari e di trasmettere il messaggio che è stato strascritto, ma è più violenza, su un grande cartellone tessuto con dei fili di lana rosa e fucsia. Veramente è bellissimo perché ci sono tanti uomini, ci sono donne ma tanti uomini, tante coppie e questo è importante perché poi io ritengo che la violenza sia molto legata anche al discorso del tumore al seno, perché ci sono studi che dicono che lo stress è la prima causa di tumore al seno delle donne, ci sono delle situazioni familiari che noi non conosciamo che sono veramente drammatiche. È importante che le donne che vivono queste situazioni si rendano conto che comunque c'è chi le può ascoltare, che possono parlare con un'amica, con una parente, anche con una perfetta estranea. Delle volte è più facile parlare con gli estrani che con le persone vicine a noi. Ma come nasce l'idea di utilizzare la Stringart per far passare questo messaggio? Noi abbiamo visto quest'opera realizzata in un convegno a Chianciano Terme, organizzato da un'associazione che si interessa di tumore al seno. Abbiamo pensato di realizzarlo qui a Castelnuovo, nell'occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, perché questo ci permetteva di coinvolgere il pubblico, i passanti, nella realizzazione, nella rifinitura di quest'opera e quindi con un'unione di più umani. Dopo una lunga indagine, la Digos di Lucca, in collaborazione con Scotland Yard, arrestato nei presse di Londra, Adam Alexander Mossa, 26 anni, originario di Sant'Andrea di Compito, deve scontare una pena di 8 anni per l'aggressione di 5 anni fa al Bruton, dove perse un occhio un ragazzo, un operario di Gragnano di 38 anni. Mossa all'epoca faceva parte del gruppo dei Bulldog. Torniamo in Garfagnana, a Castelnuovo è stata presentata una nuova cartina turistica. È stata presentata nei giorni scorsi la nuova edizione della cartina turistica di Castelnuovo di Garfagnana. Realizzata dalla Proloco di Castelnuovo, la nuova carta è stata stampata in 30.000 copie e verrà distribuita gratuitamente in quattro lingue, grazie alle inserzioni pubblicitarie che fanno da cornice la pubblicazione stessa. Si tratta di un nuovo ed utile strumento che di fatto sostituisce la vecchia cartina turistica, realizzata quasi 20 anni fa, sempre dalla Proloco. Noi quest'anno avevamo la necessità di ripreparare una nuova cartina da poter dare ai turisti gratuitamente quando arrivano a Castelnuovo e abbiamo cercato di rinnovarla completamente sia nei contenuti che anche nella parte grafica e cercando di migliorare quegli aspetti che abbiamo notato che potevano essere migliorati. La cartina parte dal centro storico di Castelnuovo per andare nelle periferie, il piano Pieve e Torrite, ma soprattutto mette in risalto tutti quegli aspetti turistici che sono importanti per il visitatore. Il retro della cartina è servito per inserire le informazioni storiche di Castelnuovo e tutte quelle attrazioni turistiche che il territorio di Castelnuovo offre. Inoltre abbiamo voluto inserire nel retro del pieghevole uno specchietto con numeri utili e le informazioni sugli alberghi, ristoranti e gli agriturismi del comune di Castelnuovo che sono fondamentali per i turisti che si vogliono orientare e sapere dove andare quando arrivano a Castelnuovo. Da anni la Proloco di Castelnuovo svolge un ruolo utile per i turisti e importante per la comunità castelnuovese. Tra l'altro ospita lo storico giornale La Garfagnana, ma è anche un punto biglietteria per il teatro Alfieri e soprattutto un infopoint per chiunque abbia necessità di informazioni che riguardano il capoluogo garfagnino. È tutto per la prima parte del TG Noi, breve break e poi la linea allo sport.